Non si vedono più. Approvato la Camera del disegno di legge che riforma la professione delle guide turistiche, un obiettivo previsto dal PNRR. Barbara Capponi. Tra le principali novità in arrivo, il superamento per poter svolgere la professione di guida turistica di un esame di abilitazione nazionale indetto dal Ministero del Turismo e poi l'istituzione di un elenco nazionale a cui è obbligatorio iscriversi per lavorare in maniera continuativa e non occasionale, prevista anche l'attribuzione di uno specifico codice a teco da parte dell'Istat per definire una classificazione delle attività inerente alla professione di guida turistica. Era dieci anni che le guide turistiche aspettavano la regolamentazione. Finalmente avranno uno status, una professione che è molto importante per il turismo perché è il nostro biglietto da visita, perché i turisti si affidano per conoscere le bellezze della nostra nazionale e le guide turistiche. La riforma della professione delle guide turistiche è uno degli obiettivi del PNRR, ha sottolineato la Ministra Santanchè, aggiungendo che la regolamentazione servirà anche a contrastare, attraverso l'introduzione di sanzioni ad hoc, l'esercizio abusivo. In base agli ultimi dati ufficiali sono circa 17.000 le guide turistiche nel nostro paese.